Quest'anno, il 2017, è un anno fortunatissimo per la Lega Navale, per due grandi eventi e importanti. Uno, l'anniversario dei 120 anni della Lega Navale italiana, che è stata costituita alla Spezia, e un altro, con mia grande soddisfazione e piacere, i 116 della sezione di Taranto, che, senza voler sbagliare, forse è una delle sezioni più antiche o più vecchie, ma nel termine positivo del termine, della Lega Navale italiana. Taranto è risuscitata, finalmente si sta acquisendo di quello che gli compete. Io credo che, essendo anche un uomo di mare, nel senso che abito nel Salento, a Lecce, le bellezze naturali, come in termini di mare, che a Taranto non sono paragonabili a nessun'altra provincia della nostra bellissima regione Puglia. In occasione del 116 compleanno anniversario della Lega Navale, sezione di Taranto, è previsto per venerdì 17 un evento celebrativo proprio di questo anniversario, serata in cui verranno esplicitate tutte quelle che sono le attività della Lega Navale, tutte le attività istituzionali. L'evento continuerà sabato successivo con un Open Day aperto ovviamente a tutta la cittadinanza e terminerà la domenica con un concerto in memoria di D'Andrea. Noi siamo un punto di propulsione culturale, socio-culturale, e quindi dobbiamo lavorare per il territorio. Ecco che lavoreremo molto intensamente per l'inserimento dei disabili nella vita della Lega Navale. Grazie. Grazie. Grazie.